sabato vigilia di napoli inter alle 13.30 roberto mancini in conferenza incontra la stampa seguila su inter channel e inter.it prova inter channel a soli 4 euro per sette giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando vai su sky.it o chiama all'199 100 200 prova inter channel e poi scegli